Campionato mondiale di pesto Genova 17 di marzo, 100 concorrenti si sfideranno nella preparazione del pesto al mortaio, 45 gare eliminatorie fatte in tutto il mondo, 25 concorrenti stranieri che provengono dalla Russia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dal Brasile, dall'Argentina, veramente un campionato internazionale, 30 giudici a valutare il lavoro dei 100 concorrenti, ci sono poi le gare parallele, quindi la competizione dedicata ai bambini, c'è il concorso Palati Fini Cartoon che di nuovo ha visto 200 concorrenti partecipare con i loro lavori, 400 tavole inviate, 100 le tavole selezionate dalla giuria, il vincitore della sezione pesto proviene dal Belgio, il vincitore della sezione alimentazione in generale proviene dalla Russia. Quindi appuntamento a Genova per il quarto campionato mondiale di pesto, se vedemo!